Oscar De Pellegrin chiude il ciclo di presentazione delle liste che lo supportano alle amministrative a Belluno con Belluno al centro, civica in cui ci sono molte conoscenze di lunga data del candidato sindaco, i consiglieri uscenti Paolo Gambe e Roberta Olivotto e diversi membri del mondo dell'associazionismo. Il mondo dell'associazionismo dove io provengo è un cuore pulsante di questa città, io credo che avere la sensibilità di renderli protagonisti, di rendere veramente questa rete di dialogo con loro, comprenderli è fondamentale. Io credo che le relazioni, quella famosa pacca sulle spalla quando serve, quel lavoro in sussidiarietà, io credo che così inneschiamo veramente un grande processo di cambiamento della nostra città ma soprattutto di amore del nostro territorio che poi va trasferito soprattutto ai nostri figli. Parlando della sfera del sociale, De Pellegrin rimarca l'importanza delle politiche per la terza età. Servono assolutamente politiche a rinforzo di quelle già che ci sono per queste persone, sono una ricchezza, io credo che per quanto più possibile noi dobbiamo riuscire a mantenerli nelle loro case in perfetta autonomia, con grande servizio di domiliaricità e cercare di dargli e mantenere quella qualità della vita che a casa con gli affetti sicuramente è miglioro. E poi quando non sarà più possibile pensare a questa nuova visione delle case di riposo che tanto bene hanno fatto negli ultimi 30 anni ma attualmente io credo che siano tutti istituti, tutti contenitori che vanno sicuramente rimodulato al servizio di quello che è oggi l'esigenza delle persone, il modo di vivere delle persone, la qualità della vita delle persone e che si crei una grande comunità che sia aperta anche alla città.